Una rete in tutto il Veneto. Il marocchino che predicava la Jihad, arrestato ed espulso a Padova, aveva contatti anche in provincia di Vicenza. Frequenti gli scambi di opinione con l'ex imam di Schio, espulso dal nostro paese un paio di anni fa. L'allerta interna sul fronte terrorismo si alza. Il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare per chiedere controlli serrati nelle aree maggiormente frequentate durante il lungo weekend dell'Epifania. Nicola Finco, capogruppo della Lega Nord, chiede la collaborazione di tutto l'Islam moderato. Chi ha dei sospetti anche minimi, dice l'esponente del Carroccio, li segnali alle forze dell'ordine e poi ricorda come in Regione si sia cercato di mettere un freno alle nuove aperture di centri islamici. Noi qualche mese fa abbiamo approvato una legge in Consiglio regionale proprio per limitare l'insediamento di questi centri culturali islamici. Ricordiamoci che l'Islam non è una religione che professa tanto l'integrazione con le altre religioni, non professa tanto alla pace. Purtroppo oggi tutti gli attentati che si sono visti in giro per l'Europa sono tutti di matrice islamica. Finco poi sprona il governo ad agire con maggiore concretezza sul fronte dell'immigrazione clandestina e ricorda che l'attentatore di Berlino era arrivato in Italia proprio su un barcone. Questo deve lanciare ovviamente un monito di allarmi in tutto il territorio nazionale perché sono migliaia i profughi barra clandestini che sono arrivati in questi anni quindi secondo me da parte del Ministero dell'Interno ci dovrebbe essere una linea molto più dura, molto più ferre ma soprattutto accelerare i rimpatri.